Ciao Giorgio, io sono il salutatore, volevo farti fare un saluto per tutti i due fan che ti seguono. Grazie, grazie mille il salutatore e io colgo l'occasione e saluto tutti quanti, grazie mille. Io ti ringrazio, e su Facebook dove ti trovano? Facebook c'è la pagina ufficiale, Giorgio Marchetti che mi segue una ragazza molto brava. Perfetto, ricordiamo il film giovedì a Raiuno, prima serata. 9 marzo, sorelle. Sorelle. 5 anni a Cattolini. Tu fai Roberto. Io faccio Roberto. Parliamo tutto così? Bellissimo, saluto. Salutone. Grazie, ciao.